Per settimana sport siamo con Davide Bigliotti, allenatore del Bergagli. Allora Davide, una bella vittoria, stretta, perché direi avete preso pali, traverse, però sono tre punti importanti direi alla fine. Sì, un po' una sofferenza fino all'ultimo perché quando non le chiudi hai sempre il timore, il presentimento di poter rovinare tutto all'ultimo. È andata bene, l'abbiamo meritata perché a conclusioni ne abbiamo avuto veramente tante, avremmo avuto tante possibilità per chiudere la partita. Dobbiamo migliorare qualche cosa, però era quello che volevamo, abbiamo vinto. Ad ogni modo direi una buona posizione di classifica, siete soddisfatti fino a questo momento? Sì, abbiamo qualche ramarico perché all'inizio dell'anno probabilmente eravamo ancora un po' incompleti a livello d'organico, ci mancava qualcosa davanti, ora ce l'abbiamo, infatti le cose stanno andando meglio, però insomma aspettiamo, vediamo tra qualche partita qual è la nostra vera dimensione. Beh, però pensate, i modi play-off sono alla vostra portata. Ma no, non ci pensiamo, ora giochiamo partita dopo partita, poi ripeto, tra tre e quattro partite vediamo per cosa giocare. Ok, grazie, ciao. Grazie, ciao. Grazie.